Il mio nome è Reign, tenente Aldo Reign. E mi servono otto soldati. Ci lanceremo sulla Francia vestiti da civili. Per fare una cosa e una sola. Uccidere i nazisti. Sì, signore! Membri del Partito Nazional Socialista hanno conquistato l'Europa grazie all'omicidio, alla tortura, all'intimidazione e al terrore. Ed è quello che noi faremo a loro. Saremo crudeli con i tedeschi. E attraverso la crudeltà sapranno chi siamo. I tedeschi avranno la nausea di noi. Parleranno di noi. E avranno paura di noi. I nazisti non hanno umanità e devono essere eliminati. Ogni uomo sotto il mio comando deve portarmi cento scalpi di nazisti. E io voglio i miei scalpi. Non, 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 non!